Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, e anche stavolta, non sono mancate sorprese e stravolgimenti. Il primo ha avuto come protagonista la tronista Valentina Dallari, che ha sorpreso tutti, affermando di aver conosciuto fuori dal programma un ragazzo, che ha molto apprezzato, tanto da farlo venire in studio. Ma tra i veri colpi di scena di questa nuova registrazione c'è di certo il forte riavvicinamento di Fabio, con l'orecchio alla corteggiatrice Silvia, Raffaele. Tra i due, nelle ultime puntate, c'è stato, infatti, un raffreddamento, dovuto ai molti dubbi nati nel tronista dopo alcuni comportamenti della ragazza. Ma nell'esterna mostrata ieri, la situazione sembra essere totalmente cambiata. I due si ritrovano al mare e su un divanetto iniziano a chiacchierare. Decidono poi di scrivere ognuno un desiderio per poi riporlo in una bottiglia da affidare al mare. Entrambi poi si confidano ciò che hanno scritto. Silvia ha scritto. Lasciati andare, e verrà tutto da sé. Fabio invece ha scritto. Spero, mi darai un bacio. Ed è così proprio su questo punto che ci si sofferma. I due si avvicinano e si sfiorano, poi Fabio le chiede, se è quello che davvero vuole, Silvia conferma, e tra i due scatta l'atteso bacio. Un'esterna davvero molto bella e romantica, ma stupire è la frase che si sussurra nei due, prima di concludere l'esterna. Silvia infatti dice a tronista. Ho voglia di viverti fuori da qua, frase a cui Fabio risponde. Anche io, ma devo capire delle cose. Forse il tronista ha già capito di volere lei tra tutte le altre corteggiatrici.